Le antiche raffigurazioni vascolari di Saffo, con il suo nome iscritto, sono quattro, alle quali se ne possono aggiungere altre tre, senza il nome di Saffo, che si suppone con buone ragioni che ritraggano la poetessa. Esse coprono un periodo che va dalla fine del VI secolo alla metà del V secolo a.C. e, pertanto, la più antica raffigurazione di Saffo risale a meno di un secolo dopo rispetto alla sua Khme, fissata tra la fine del VII e l'inizio del VI secolo a.C. In questo lavoro ne presentiamo due. Aghi de Kliu di Amoi Leghe Fonesa de Guinea, su via Divina Tartaruga, dimmi e acquista voce. Su un tipo di idria, ovvero un recipiente per l'acqua, detto Calpis, a figure nere, conservata in un museo di Varsapia e databile alla fine del VI secolo a.C., è dipinta la più antica e raffigurazione di Saffo, identificata dal nome iscritto a destra della figura. Il dipinto è opera di un ceramografo attico, detto il Pittore di Saffo, attivo tra la fine del VI e l'inizio del V secolo a.C., ovvero meno di un secolo dopo rispetto all'epoca in cui visse Saffo, il quale ha scelto di ritrarre la poetessa di Lesbo con indosso unimation, sopra il chitone, isolata in un contesto performativo lirico, mentre tocca con le dita della mano sinistra le corde di una barbitos, e con la mano destra regge il plettro, con cui sembra avere appena terminato di percuotere le corde dello strumento. La barbitos era una lira dalle corde più lunghe, di probabile origine microasiatica, la cui cassa armonica poteva essere costituita da un guscio di tartaruga, Kelius Keliunna, che, per metonimia, designava spesso l'intero strumento. L'attività poetica di Saffo, di comporre ed eseguire carmi lirici, suggerita dalla barbitos e dal plettro nella raffigurazione vascolare, trova sicure corrispondenze nella tradizione letteraria. Per esempio, Imerio, retro del IV secolo d.C., cita più volte Saffo, accostandone il nome alla lira. Il grande poeta latino Razio associa sistematicamente alle olio poella le fides della lira, ovvero la lira stessa. Il lessico bizantino Suda annota che Saffo, lirichè, scrisse nove libri di mele liricà e inventò il plettro. In un epigramma anonimo dell'antologia palatina, Saffo è descritta con la sua lira d'oro fra le mani. D'altronde, è noto che nel canone alessandrino Saffo è collocata tra i lirici monodici, cioè tra quei poeti che seguivano gli assoli cantati con l'accompagnamento del suono di strumenti accorde. Anche nei frammenti di Saffo si incontrano i termini, talora isolati glossani, che indicano strumenti accorde quali la barbitos, la lira, la pactis e la citata chelis. Il frammento 118 dell'edizione di Eva Marie Foyt, nonostante le incertezze testuali, sembra il più significativo tra quelli conservati a richiamare l'immagine dipinta dal pittore di Saffo. L'ego loquens con un apostrofe si rivolge direttamente alla divina tartaruga, invitandola a conferire e a diventare parlante, forse per dare inizio a un canto. Sappiamo, da una delle fonti che riportano il frammento, che la chelis avrebbe risposto all'invito dell'ego loquens, ma la stessa fonte non riporta il contenuto della risposta. Ardo cercare di ricostruire nei particolari il contesto entro cui si scriveva il carne, ma, in modo del tutto arbitrario, piace immaginare che la Saffo dipinta sulla calpis sia stata immortalata nel momento in cui, da inizio al suo canto, rivolgendosi proprio alla Barbitos, che sta utilizzando per la sua performance. Frammento 94, Foyt, dal verso 2 al verso 8 Amepsis domena cate limpanen, polla cai to dei pèmoi, omos deina pepontamen, psa feeman sae coi sapi limpanu, tan dego, tadame boman. Cairo iserchio kameten, memna isoista garosse pedepomen. Traduzione Lei mi lasciava piangendo a lungo, e così mi disse Ah, che pene spaventose soffriamo, o Saffo, davvero contro il mio volere ti lascio. Ed io così le rispondevo Va, e si felice, e di me serba memoria. Tu sai quanto ti volevamo bene. Su un lato di un calyx cratere, a figure rosse, un cratere a forma di coppa, usato per miscelare vino e acqua nei simposi, risalente al 480 a.C. circa, e conservato nella collezione d'arte dell'Università di Bochum, è stata dipinta la figura di Saffo, identificata dall'iscrizione del suo nome, a sinistra del viso. E sull'altro lato, la figura di una giovane donna, identificata come La Ragazza, dall'iscrizione posta sopra la testa. I dipinti sui due lati del calyx cratere sono attribuiti al Pittore di Titono, nome convenzionale assegnato a un ceramografo attico, attivo tra il 500 e il 470 a.C. che ha scelto di ritrarre Saffo mentre si muove in una direzione, con il viso rivolto nella direzione opposta insieme con il braccio destro teso. La poetessa è vestita con un imation, mantello, che lascia scoperto una spalla, sopra un chitone a poix e con una cuffia che raccoglie i capelli, il saccos, sulla testa. Saffo tocca con le dita della mano sinistra le corde di una barbitos, da cui pende la custodia di un aulos, flauto, mentre nella mano destra ha un plettro. Sull'altro lato del cratere, la fanciulla è raffigurata anch'essa mentre procede in una direzione, con il viso rivolto nella direzione opposta. i capelli raccolti nel saccos e vestita con un imation che copre tutto il corpo, sollevato leggermente dalle mani nascoste all'altezza dei fianchi, lasciando spuntare in basso un chitone a poix. In alcuni studi recenti, le due figure femminili sono state messe relazioni tra loro, a ricreare una scena drammatica, riconducibile a un gruppo di testi di saffo detti i canti del distacco, tra i quali il più rappresentativo è il frammento 94 Voigt, da cui sono stati estrapolati i versi del dialogo riferiti precedentemente. Si può infatti ipotizzare che il pittore di Chitono abbia voluto rappresentare il momento in cui una ragazza sta abbandonando la comunità femminile dedita al culto di Afrodite, delle Muse e delle Grazie, detta convenzionalmente Tiaso, dove è stata educata e istruita sotto la guida di Saffo. Una struggente scena di addio tra l'istitutrice e l'allieva, ormai pronta per uscire dal Tiaso e affrontare la vita reale. Saffo, tornando indietro, verso un luogo chiuso non definito, accenna un gesto di saluto dopo aver finito un canto lirico di distacco. Forse proprio il carme tramandato lacunosamente dal frammento 94 Voigt, volgendo lo sguardo verso la ragazza che, a sua volta, le rivolge lo sguardo scendo verso l'esterno, come dimostra il mantello che l'avvolge interamente. di Grazie a tutti.